Ciao a tutti, mi chiamo Susi, ho 28 anni e vivo a Roma. Ho conosciuto Web the Foundation tre anni fa, quando ho fatto la mia prima esperienza in Cameroon dopo la laurea e sono venuta a conoscenza di questa organizzazione, di questo progetto al villaggio di Bancù. Sono rimasta molto impressa per la sua concretezza e per il suo lavorare veramente per lo sviluppo di questo villaggio. Quindi questa estate ho deciso di partecipare come volontaria, lavorando sia come educatrice per i bambini e per i lavoratori dell'ospedale di Bangùa, sia riguardo alla situazione dell'acqua del villaggio e anche riguardo alla situazione del commercio in questo piccolo villaggio. Questa esperienza mi fa crescere molto a livello personale, soprattutto perché mi ha fatto venire a contatto con delle realtà che difficilmente riuscireste ad immaginare senza venirne a contatto in prima persona. E per questo motivo vi invito a partecipare al progetto per la vostra crescita personale e anche per una vostra sfida personale al fine di conoscere com'è il mondo al di fuori della vostra zona di comfort. Grazie. Grazie.